Respinta ancora una volta dal GIP Pier Giorgio Ponticelli la richiesta di incidente probatorio per la superperizia sulle cause dell'incidente sul lavoro all'archivio di Stato di Arezzo che lo scorso 20 settembre costò la vita a due dipendenti Filippo Bagni e Piero Bruni. La procura di Arezzo ha così potuto affidare ad un team di esperti la consulenza, si tratta degli ingegneri Antonio Turco, Luca Fiorentini e Luca Marmo che adesso avranno davanti loro alcune settimane per portare a termine il lavoro. La richiesta di incidente probatorio era stata avanzata dall'avvocato Tiberio Baroni, legale di uno degli indagati, un'istanza che aveva portato la vigilia del Natale allo stop dell'affidamento. Adesso la superperizia è stata affidata e dovrà far così piena luce sulle cause del malfunzionamento del sistema di allarme antincendio dal quale quella drammatica mattina fuoriuscì Gasargon che non lasciò scampo ai due impiegati scesi nel seminterrato a controllare cosa stesse succedendo. Al momento sono in tutto 14 gli indagati, in gran parte si tratta di figure di garanzia a cominciare dal direttore dell'archivio di Stato Claudio Saviotti ma la superperizia potrebbe consentire di entrare maggiormente nel merito ed individuare così precise responsabilità.